Con questa serata del 23 di gennaio parte la nuova edizione dei giovedì dell'archivio. Una rassegna all'interno del servizio archivistico del Comune di Crema. Il servizio archivistico è un servizio che serve a custodire, serve a trasmettere e a divulgare e a fare consultazione alle persone che vogliono accedere al servizio di tutti i fondi che oggi il Comune di Crema custodisce nella propria sede presso la Biblioteca Comunale. Questa serata comincia appunto con l'argomento della risicoltura nel cremasco e sarà dedicata proprio a quelle che sono state un po' le vicissitudini di questo tipo di coltivazione che in realtà nel tempo è sempre stata molto contrastata per motivi diversi, per motivi di tipo sanitario, di tipo economico, di tipo finanziario. Da una parte voluta da alcune persone, dai proprietari e dai possessori di terreni e dall'altra molto osteggiata soprattutto da parte delle istituzioni che avevano a cuore fondamentalmente la salute di tutta la cittadinanza. I prossimi appuntamenti della rassegna saranno sempre di giovedì 6 e 20 di febbraio. Speriamo anche in quelle occasioni di potervi vedere tanti e numerosi come avete sempre fatto anche negli anni passati sperando di poter fare un buon servizio di informazione e di formazione e di approfondimento su quella che è la storia locale, quelle che sono le tradizioni locali e le istituzioni che questo territorio ha sempre avuto, molto ricche fin dall'antichità.